Non proprio di prostituzione di strato, ma una prostituzione attraverso i sogni, questa tv mediatica che riesce a trasformare ragazzini veramente oggi in robot, dove vediamo fenomeni televisivi dove non ci insegnano niente, ma cercano di creare dei sogni che alla fine praticamente diventano degli incubi per queste ragazze. Tornando al discorso Prestipino, la dottoressa Prestipino, io spero di incontrarmi al più presto e di continuare insieme questa battaglia mettendo su un convegno e poter ancora dire la nostra contro questo fenomeno. Non era effettivamente un attacco alla Presidente, però il problema è che quello che è stato fatto non si risolve questo problema, perché iniziative del genere ne sono state fatte tantissime, ne sono state organizzate, però effettivamente in qualche modo denotava forse una scarsa conoscenza del problema, effettivamente il fenomeno stesso e il fatto di mettere dei manifesti fine a se stessi. Ci vuole un'attività diversa di prevenzione e anche di repressione, perché no? Però bisogna combattere soprattutto oltre che l'offerta anche la richiesta, perché senza la richiesta chiaramente non ci sarebbe l'offerta, ma non è tanto l'offerta. Il problema è che l'altro giorno io ho ricevuto una mail quasi di protesta, direi una cosa un più generale, però in questa mail di un lettore di un internauta, che aveva seguito un po' le mie vicende su internet come direttore di talimedia.it e mi attaccava dicendo che io ero contro le lucciole. Io voglio ribadire una cosa, non sono contro le lucciole, ma sono contro il sistema che si crea dietro di sfruttamento, il sistema delinquenziale che appunto in qualche modo avvolge e stritola, anche sfrutta, ma stritola proprio anche la personalità e la vita stessa di queste ragazze. Che poi, una cosa che noi parliamo sempre di luccio di ragazze, ma c'è il sistema per esempio della protezione dei transessuali, è molto più stritolato dal fenomeno dello sfruttamento addirittura ancora di più rispetto a quello delle donne, delle ragazze, perciò si passa sempre in secondo piano anche quell'altro aspetto, invece ci sono dei dati di cui sono in possesso che effettivamente dimostrano anche che quell'altro fenomeno, la parte della prostituzione dedicata appunto, che è occupata dagli transessuali, vittima forse in maniera molto più violenta e, come dire, pesantemente anche naturalmente, è vittima appunto dello sfruttamento di coloro i quali si arricchiscono le spalle di persone che sono in qualche modo poi socialmente più deboli, per la fine se andiamo a vedere. Comunque, per ritornare adesso abbiamo fatto un discorso, un escursus, un po' un preambolo, un po' dal punto di vista socio-antropologico diciamo direi quasi del fenomeno, però ritorniamo adesso, naturalmente parleremo anche del film, innanzitutto volevo sapere da te Rosario come è nata innanzitutto l'idea di realizzare questo cortometraggio, io lo chiamo cortometraggio, film breve. Sì, film breve. Lo chiamiamo film breve e più che altro perché tra l'altro è stato patrocinato dalla regione Lazio, insomma sono nate molte iniziative poi intorno a questo cortometraggio, a questo film breve. Sì, beh, film breve, chiamiamolo uno. È incredibile, è un regista che lo chiama film breve perché tecnicamente dovrebbe chiamarlo poi cortometraggio, però tu sei stato sempre molto originale in tutte le due cose, perciò in questo momento controcorrente. Cioè, chi ha visto il film, io sono stato per esempio a Clermontog, adesso sono reddice da Cannes, chi ha visto il film praticamente lo definisce veramente un film breve, chiunque mi ha detto perché non è fatto un film lungo, quindi oltre i 75 minuti. Secondo me raccontare un dramma del genere faceva molto più presa un film breve con grandi artisti, tra cui prima volevo, ecco, quando tu hai citato il grande Giancarlo Giannini che per la prima volta ha effettuato un film breve, la bravissima Martina Stella, l'Antonella Ponziani, un bravissimo Alessandro Haber e poi mancava praticamente il premio Oscar Murey Abram che tutti ricordiamo nella grande interpretazione non solo di Amadeus dove vinse il premio Oscar ma anche il famoso regista russo Andrei Koncelowski che ha dato il proprio nome, diciamo, interpretando se stesso nel film. Ringrazio anche il direttore della fotografia Blasco Giurato, il maestro Nicola Piovani, Raimondo Crociani che ha montato il film, veramente quindi un film breve con un cast veramente eccezionale sia artistico che tecnico. Il mio onore e il piacere ho avuto grande disponibilità da parte di questi grandi artisti per veramente per dare voce, per dare forza, per andare con, oltre ecco, un manifesto, ma riprendendo il discorso da prestigione, creeremo qualcosa insieme di importante, quindi per dare veramente forza e dar voce a tante ballerine vittime di questa ingiustizia. Ho avuto il piacere, una volta terminato le riprese, di conoscere il dolorevole Mario Michelangelo, una persona sensibilissima che io ho conosciuto a una cena Ricordiamo appunto l'assessore per la tutela dei diritti dei cittadini della regione Lazio veramente una persona eccezionale, che ha avuto praticamente la sensibilità, quando mi ha chiesto il tema del film chi erano gli artisti che hanno partecipato allo stesso film, di vedere il film e insieme all'assessore Alessandra Di Balde, di cui saluto e ringrazio, hanno messo insieme e patrocinato questa manifestazione per far sì, per quello che dicevamo praticamente prima, per fare un discorso continuativo e insieme dimenticavo all'onorevole Silvia Costa e a tante altre che chiedo scusa se stando davanti al microfono ci si dimentica sempre poi di qualcuno e insieme dicevo alla Silvia Costa di divulgare nelle scuole questo film Io so che abbiamo fatto una selezione poi dei punti più salienti appunto di questo film breve ci sono due spezzoni che io vorrei mandare in onda, più tardi vediamo di mandarli in onda perché tra l'altro abbiamo selezionato un paio di spezzoni più significativi e il resto più tardi li manderemo sicuramente in onda Scusami se ti interrompe, io volevo anche ricordare che questo film è stato patrocinato dal Ministero degli Interni, dal Ministero della Giustizia, dal Parlamento Europeo, premiato dal Presidente della Repubblica con medaglia d'argento, il Ministero dei beni culturali, diciamo veramente abbiamo avuto il piacere di avere tante istituzioni vicine a questo fenomeno Stiamo tentando adesso di poter programmare il film nelle sale attraverso una distribuzione che per scaramanzia oggi non dico, distribuzione cinematografica, ci sarà una distribuzione televisiva oltre come ti dicevo il piacere e l'onore che questo film sarà scelto come messaggio e sarà divulgato nelle scuole Altro patrocinio importante che volevo ricordare è ringraziare nella persona dell'Arcivesco Marchetto del Pontificio dei migranti e di Neranti e lo stesso film è stato patrocinato dal Pontificio dei migranti della Santa Sede Perfetto, io mi fermerei per un attimo